Ma è un peccato perché la partita è stata fatta, è stata fatta una buona gara contro un avversario in questo momento che ha dato tutto perché stanno lì in basso della classifica e quindi queste partite danno tutto. Noi dal punto nostro abbiamo fatto una buona gara e loro non credo che ci abbiano impensitito così tanto, buttavano solo questa palla lunga e una di queste palle lunghe hanno trovato il rigore. Noi dal canto nostro comunque abbiamo continuato. Lì vicino sull'episodio ci dici qualcosa? Credo che sia all'interno dell'area di rigore, però adesso non so se il contatto c'è stato o no, però comunque un po' era dubbio. Il problema non è il rigore dubbio, il problema è che dobbiamo essere in alcune circostanze cattivi, cinici, perché il calcio è così, se non chiudi le partite poi dopo alla fine la paghi. Però adesso guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la partita è stata fatta, abbiamo creato tanto, c'è stata una buona gara di intensità e adesso ricarichiamo le batterie e affrontiamo l'ultima partita con la sede di Tana. Mi parlavi tu qualche istante fa quando non si chiudono le partite, siamo un po' alle solite perché il Pescara spesso in questa stagione non è riuscito a chiudere le partite e poi nel finale ha subito il gol del pareggio dalle formazioni avversarie. Ma purtroppo tante volte è accaduto questo, tante volte abbiamo ripreso le partite e siamo andati a vincerle, ci sta, il calcio è così, il calcio è bello per questo, ti dà e ti toglie, quindi dobbiamo essere bravi e concentrati a sfruttare le occasioni che creiamo durante la partita, dobbiamo essere più cinici in alcune circostanze, però l'importante è arrivare, se uno non arriva è un problema, infatti noi ci arriviamo e dobbiamo solo migliorare quell'istante finale e cercare di essere più cinici. L'assetto tattico Alessandro perché gran parte della partita è giocato da mezzala, poi nella parte finale si è rialzato Gaston e tu hai giocato davanti alla difesa, a me personalmente quando tu sei lì davanti alla difesa con Brugman che può andare piace molto di più, però è una mia sensazione, volevo sentire te dal campo. Ma io faccio quello che mi dice il mister, se il mister mi dice di giocare là io lo gioco lì. Però la tua sensazione? Ma io certamente non sono una mezzala di gamba, non è che ho fatto tanti gol in carriera, quindi sono più un mediano e quindi è normale che la posizione preferita è quella davanti alla difesa, però da mezzala cerco di dare equilibrio, sostanza, nel calcio è importante perché senza l'equilibrio non puoi andare da nessuna parte. I numeri Alessandro dicono che nel Pescara di Pilon Alessandro Bruno è sempre titolare anche quando ci sono tutti i centrocampisti a disposizione, eccezione fatta per Melegoni che è fortunato. Ma è perché in questo momento siamo accorti lì in mezzo al campo per i vari infortuni di Melegoni e varie squalifiche, l'importante ripeto è essere sempre pronti e accettare qualsiasi decisione da parte del mister, io sono tranquillo, sereno, se posso dare qualcosa lo do, ho massima disponibilità, faccio quello che so fare, impegnarmi al massimo e cercare di essere sempre a disposizione. Grazie.